ciao a tutti benvenuti al mio primo blog ora sono stracontenta perché stiamo per andare a vedere chiara ti lascio una canzone allora abbiamo fatto dei biscotti che stanno esattamente qua dentro non so se si vede sì e la foto è quella che ora vi metterò sto con la mia amica ornella che mi ha fatto conoscere chiara e stiamo veramente super felici ovviamente come sempre siamo un po in ritardo ma fra me e lei non so che è ritardataria quindi è normale c'era tutto calcolato e in tutto questo si è anche rotta la luce della macchina infatti sto facendo il video con la torcia del telefono di ornella sparata sulla mia faccia e infatti se sembra un fantasma è per questo motivo non è perché sia diventato un fantasma sia morta nel frattempo non vediamo l'ora di incontrare chiara e speriamo di riuscirle a parlare e a darle i nostri biscotti che non sono venuti molto bene però l'importante è il pensiero ovviamente siamo a roma con la pioggia e quindi c'è tantissimo traffico e questo non aiuta detto che siamo in ritardo siamo finalmente riusciti ad arrivare ci sono gli studi della rai là in fondo e non siamo neanche in ritardo perché sono le 7 e 22 e noi dovevamo stare qua alle 7 e mezza per entrare alle 8 quindi ora ci andremo a procurare del cibo perché non abbiamo mangiato ovviamente e non abbiamo neanche portato cibo se non i biscotti di chiara che però non possiamo mangiare noi e continua a piovere siamo appena entrati nell'auditorium e ho incontrato gli altri pazzi ciao e ora stiamo aspettando ovviamente prima ci hanno fatto aspettare circa 10 minuti sotto la pioggia esatto mentre tutti gli altri passavano e ora non abbiamo dei posti a sedere in verità perché ce li daranno se rimangono dopo all'inizio della trasmissione se no ci dovremmo mettere per le scale questi sono i biglietti che ci hanno dato con la busta chiara da notare no dietro sono uguali dietro la faccia di chiara che scrivi? allora che scriviamo? intanto stiamo facendo una lettera per chiara da legare ai biscotti cara chiara abbiamo deciso mezz'ora prima di venire qui di farti questi biscotti tra parentesi molto buoni potenti molto però facci la che sta leccando in bambini xp hanno un significato due punti sole e faccio beccetta un giorno di sole si a tempo non ci fanno entrare tutto è iniziato e noi non entriamo però andiamo a entrare dove è il mio biglietto? oddio ce l'hai il campo allora fai entrare vai vai e poi c'è il risposto chiara sta arrivando chiara è a caldo ciao chiara ciao ragazzi due minuti ciao siamo a tirascio siamo noi com'è stato parlare con chiara? lei non ha parlato ho parlato solo io non l'ho guardata e le ho detto del cartellone del fatto che le scrivo tanto su twitter dei biscotti dei biscotti ho fatto biscotti è andata via è appena finita mi lascio una canzone e ora noi cerchiamo di andare a parlare e a parlare con chiara vedo chi era? vedete una qualcosa di rosa non ti preoccupare con i video 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 questo è per mia madre che sono mia mamma non c'avete una un chiama Elsa senza l'h non avete un un po' soprappoggiare un po' in orella non è che puoi fermarmi con il tuo istaco a chi? a me che non sono mai riuscita a venire a me ti chiami Ilaria grazie mille ah Ilaria ritardataria sì che la mia puoi togliere la regala tu io capito che lei mi ha fatto conoscere la musica tua perché stavamo al banco insieme io non avevo Sky cioè non ho ancora Sky quindi praticamente cioè tu sei e ti chiami Ornella Ornella ah Ornella grazie ma ti sono piaciuti? o erano erano mangiati durante la cosa ma è venuto subito perché non erano un gran invitanti la voglio la voglio la prossima volta e la portiamo la facciamo più 70 bella questa cosa ma la fatta lei le facciamo più anche tu ce l'hai viva il baciccio ciao ciao appena finito ti lascio una canzone e abbiamo appena incontrato Chiara ed è stato bellissimo straordinario anzi ci sono due pezzi che non ho registrato perché non ho fatto in tempo a parte ovviamente la diretta che non si poteva uno è quando abbiamo dato i biscotti a Chiara e siamo andate gli abbiamo dato questi biscotti e in pratica ci ha detto fra l'altro che il cartellone l'aveva ricevuto ci ha chiesto se ci eravamo già incontrate prima poi che altro ci ha detto le ho detto che mi ha stellinato su Twitter e le ho detto come mi chiamo non so se se lo ricorderà però comunque uno ci spera e poi qualcos'altro che ora a caldo non mi ricordo forse a freddo riuscirò a scriverlo ora stiamo andando in macchina stiamo tornando a casa e quindi buonanotte se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e commentate qua sotto se anche voi avete mai visto Chiara o mai visto qualcuno di famoso così da vicino e vi ricordo di iscrivervi al mio canale inoltre mi potete seguire anche su Facebook e Instagram e Twitter buonanotte ora veramente grazie a tutti Grazie.